Dai Ale, piega con le gambe, forza eh! Vacci, 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 non cominciare eh! Vacci sempre! Fai gol, fai gol, fai gol! Giusto? Unire sulle ribattute eh! Bene su quei talloni, sui talloni, lavora con gli avampiedi, alza quei talloni! Buono eh, tenuta! Ma perché la guardi, non ti dai una possibilità di parata? Ma buttati, male che vada, entra lo stesso! Dai Ale eh, dai Ale, dai Ale! Fai gol, Leo! Va bene, Ale, Ale, sulla respinta, senza paura eh! Attacchiamo la palla, stendi le braccia, va bene eh! Poi faremo anche l'attacco palla! Ok! Non saltellare, non saltellare, quando sto per calciare devi essere fermo! Bene in posizione! Oh, mi piace che sei andato ma ti sei girato ancora! Sempre con il destro eh! Però voglio vedere questo, cominciamo ad andarci sempre e darti una possibilità di parata! Poi sistemiamo anche il resto! Bravo, tenuta a me! Uh, è questa? Eh, quasi alla pari possiamo fare il poster eh! Dai, mettila in porta! Eh! Mi piace, mi piace quando fa così! E' questo il lavoro del deviatore, deviare eh! Buono, mi piace, bravo! Io voglio vedere questo, che ti dai sempre una possibilità di parata! Poi piano piano ci arriviamo eh! Va bene, va bene! Mi piace, bravo! Va bene Ale, va benissimo, così eh! Piega con le ginocchia, le ginocchia, le ginocchia, piegale di più! Ecco, così da lì si spinge! Buono, bravissimo! Arriva! Bravo, oh, ancora! Bravissimo, arriva ancora! Va bene, bravo! Ottimo, ottimo! Dai, ne mancano tre eh! Vai avanti così eh! Datti sempre una possibilità di parata! Va bene, va bene, va bene! Piega di più le ginocchia! Lavora sugli avampiedi e spingi forte eh! Ale, non questo eh! Questo! Piega ancora un po' di più! Ok, andiamo! Buono! Arriva! Uh, parata! Bravissimo! Però in porta! Bravo, bravo, bravo! L'ultima! Eh, va bene! Dai, palloni veloci! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!